e abbiamo perso lo spirito di un libro e lo spirito di un libro, e fidatevi, è la cosa che fa anche l'autore che magari non farà leggere neanche una pagina ai suoi più cari amici, quello che un libro vuole fare è valicare i confini del tempo e delle culture sconfiggendo la morte, scrivere libri, lasciare tracce culturali, è un tentativo di valicare confini che il mio umano corpo non mi permette di valicare. Quando Dante ha scritto la Divina Commedia, ha scritto anche nel tentativo di restare, lui ci è riuscito, il 99,99% degli autori a lui contemporanei non ci sono riusciti, anche se magari i libri in forma di oggetto sono arrivati a noi, noi abbiamo tanti autori contemporanei a Dante che sono rimasti solo come materia, Dante è rimasto come spirito, come idee che ci cambiano, che ci giudicano.